Augusta e i carabinieri cinturano il territorio. Quattro assuntore segnalati e oltre 17.000 euro di sanzioni. In primo piano le attività finalizzate alla prevenzione di reati e al rispetto delle misure di contenimento della pandemia previste da EDPCM sull'intero territorio ricadente nella giurisdizione di competenza. I carabinieri della Compagnia di Augusta nel corso della settimana appena trascorsa hanno eseguito molteplici servizi con lo scopo di vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell'Ordine della Sicurezza Pubblica e con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane dando altresì impulso all'azione di prevenzione del contrasto ai comportamenti potenzialmente di maggiore pericolo. Durante i servizi predisposti per fare rispettare le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative all'attuale classificazione di zona gialla della regione sono state controllate circa 200 attività commerciali e 733 soggetti di cui 14 sono stati sanzionati poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di potenzione. L'importo complessivo delle sanzioni è di oltre 5.000 euro. Nel corso dei controlli avvenuti sugli assi stradali sono stati invece controllati 148 soggetti e 116 veicoli eseguiti per acquisizione personale veicolari e domiciliari contestando diverse violazioni al codice della strada tra cui 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 6 per guida con telefono cellulare, 4 per mancanza di copertura assicurativa RCA, 1 per guida di veicolo già sottoposta su questo amministrativo, 2 per guida di veicolo senza aver conseguito la prescritta revisione periodica, 3 per mancato utilizzo del casco produttivo, 2 per guida con patente scaduta di validità, 1 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida. Le violazioni del codice della strada contestate raggiungono un importo di circa 12.500 euro e sono stati ritirati 9 documenti di circolazione e sottratti complessivamente circa 130 punti dalle patente di guida. Nel corso dei controlli sono state altresì segnalate in via amministrativa 4 assuntori di sostanze stupefacenti poiché all'atto del controllo sono stati sorpresi in possesso alcune dosi di cocaina, marijuana e hashish detenute per uso personale che sono state sequestrate. Grazie.